allora per fare gli aumenti esterni con l'uncinetto si fa in questo modo allora quelli esterni si fanno solo quando lo richiede veramente lo schema perché si vede proprio lo stacco del nuovo punto cioè il lavoro è proprio che si muove verso l'esterno altrimenti è sempre preferibile farli anche solo una maglia prima ma in modo che rimanga più omogeneo diciamo il lavoro però a volte servono dei punti esterni in alcuni schemi i punti esterni si fanno gli aumenti esterni si fanno semplicemente così si fanno tante catenelle quante vogliamo aumentare quindi se io adesso devo aumentare su questo lato per esempio di due faccio due catenelle giro il lavoro poi a seconda del punto che dobbiamo fare dovremmo fare anche il primo punto quindi io adesso questo qui l'ho fatta a maglie basse quindi farò anche una catenella che è la mia prima maglia bassa dopo di che entrerò io qui questa catenella qui è la mia prima maglia bassa e queste allora questa e questa queste due qui sono le mie due catenelle che io ho aggiunto quindi entro questa che ho fatto ora no perché la mia prima maglia bassa entrerò dentro le due la parte superiore delle mia catenella prendo il filo e la lavoro a maglia bassa lo stesso con la seconda catenella dentro sempre un po due perché essendo una catenella e dentro qua ecco adesso io ho aumentato vedete di due punti uno e due punti continuerò il mio giro normalmente fino ad arrivare all'altro lato del mio lavoro dove farò la stessa cosa quindi farò due aumenti anche sull'altro lato quindi adesso io faccio ancora qua 12 catenelle una che è la mia prima maglia alta giro il lavoro maglia bassa scusate cioè che il mio spessore e lavoro queste due maglie qui quindi una prendendo sopra tutte e due le parti della maglia e 2 ecco adesso aumentato di due anche su questo lato qua fatto i miei due aumenti adesso rilavoro tutte le maglie fino in fondo il risultato dopo anche questo secondo aumento ecco questo è il risultato quindi di qua abbiamo le prime due e di qua c'è già ho già fatto due giri quindi si vede già bene com'è il risultato è proprio un risultato netto cioè non c'è una crescita ora sono due anche se era una sola comunque ci sarebbe stato comunque questo scalino quando sono esterne appunto la caratteristica è proprio di questo scalino qua è un risultato netto Grazie a tutti.